La verità è che siamo governati dall'ottusità, siamo governati dall'ottusità, non mi sto riferendo a un ministro o a un governo, a una classe dirigente che ha messo sullo stesso piano la spesa corrente e la spesa in conto capitale delle pubbliche amministrazioni, che ha considerato come se fossero la stessa cosa le risorse che vengono investite nell'allestimento delle strutture burocratiche o nel funzionamento delle macchine amministrative alla stregua delle risorse che sono invece destinate agli investimenti, che sono destinate a pagare le imprese, a pagare gli appalti regolarmente vinti.